Mancano soltanto due giorni all'inizio dell'esame di maturità, il terzo in epoca Covid, che si svolge in presenza e che segna il ritorno delle due prove scritte che saranno seguite da un colloquio. A fine maggio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha comunicato i nomi dei presidenti di commissione, unici membri esterni delle commissioni, che sono al lavoro per definire le materie di indirizzo e le tracce della seconda prova. Come ci spiega la professore Santo Nella San Vitale, dirigente dell'Iceo Classico Gabriele D'Annunzio di Pescara, presidente di commissione all'Istituto Tecnico Commerciale ed Economico di Torre dei Passeri. La prima prova scritta, che è la prova di italiano, è ministeriale, quindi ha tutte le caratteristiche, le varie tipologie previste dall'ordinamento, con anche lo stesso punteggio. Al massimo, una prova completa, perfetta, può essere attribuito il punteggio di 15 come massimo. La seconda prova, che è la prova di indirizzo per ogni scuola, viene elaborata dalla commissione, formata da tutti i professori interni. Se tutte le prove d'esame sono svolte perfettamente, arriviamo a un punteggio di 50. Siccome era 60, secondo l'ordinamento, il valore delle prove d'esame, allora quei 10 punti sono stati attribuiti dal credito scolastico. Cioè il credito scolastico in questo esame ha lo stesso peso delle prove d'esame. Quindi un credito scolastico in cui il ragazzo ha avuto sempre il massimo nell'ultimo triennio, arriva a 50 punti. Quindi il ragazzo più bravo si presenta all'esame di Stato con un punteggio, con un credito scolastico di 50 punti. E se fa tutte le prove bene, abbiamo detto, ne ha 50 e quindi prende 100. Di recente il MIUR ha inoltre chiarito che le mascherine non saranno obbligatorie durante le prove, purché venga rispettato il distanziamento. Vedete, per gli iscritti devono essere distanziati di almeno un metro. Noi abbiamo predisposto già l'aula in cui c'è maggiore distanza tra i ragazzi del metro, in modo da permetter loro durante gli iscritti, che durano 6 ore la prima prova, 6 ore la seconda, possono non tenere la mascherina. Anche nel colloquio il candidato può non tenere la mascherina perché il distanziamento è previsto in tutte le commissioni e ogni commissione deve decidere, in base alla capienza dell'aula, quante persone possono accedere come sostegno al candidato. In Abruzzo sono complessivamente 10.916 maturandi, 2.277 in provincia dell'Aquila, 3.262 in quella di Chieti, 3.040 in provincia di Pescara e 2.337 in quella di Teramo. E a Torre dei Passeri, all'ITC, i docenti e il personale ATA hanno già collocato sui banchi coccinelle di buon augurio. Questa è proprio una tradizione di questa scuola, la coccinella come augurio, la natura e noi tifiamo per ogni ragazzo, per aspera d'astra.